Voglio che la prova possibilmente due anni di contratto precario. Come gli pare, ci sarà la gente in corteo in cirocchio davanti ai presi. Questo lo dobbiamo impedire. Praticamente restituire i soldi, di fare una lettera in attesa. I venti dei precari che in questo anno hanno continuato a lottare, mantenendo alta la dignità di tutti. Un governo che non investe sulla scuola, un governo che non investe sul futuro. Quindi mi sembra doveroso essere qua. Insegnante di psicologia, non c'è più! Insegnante di educazione fisica, perde il posto, non c'è più! I disabili cominciano la sofferenza, l'hanno già cominciata tanto tempo fa. Noi, visto che abbiamo fede, purtroppo abbiamo fede, continueremo ad avere fede. Chi è povero o precario non avrà nessuna speranza. In più, sicuramente la qualità nel mondo della scuola ne varrà meno. La Sardegna, le isole, il sud, è la zona più disagiate del paese. Una mattina, mi sto svegliando! Lui, lo è. Così, direi! Grazie a tutti.